Strategia di Deployment Blue Green con Azure Pipeline Ciao, io sono Michele e oggi vediamo in questo video come applicare una delle strategie più diffuse per aggiornare il siti web senza che l'utente se ne accorga. Ho parlato di questa strategia in maniera più approfondita nel tutorial con le GitHub Actions. Ti metto un link in descrizione al video dove c'è tutta la spiegazione di che cosa si intende se non la conosci con la strategia di Deployment Blue Green. In questo video mi concentrerò in particolare sull'implementazione specifica con le Azure Pipeline. Quindi se vuoi vedere di più la parte teorica ti consiglio di andare a vedere il link che metto dove ho fatto l'implementazione con GitHub Actions. Quindi, bando alle ciance, entriamo dentro Azure DevOps e diamo un'occhiata a come ho fatto l'implementazione con Azure Pipeline. Ok, allora eccoci qua all'interno di Azure DevOps dove andiamo a creare la nostra pipeline per fare build e deployment della nostra applicazione con strategia Blue Green. Allora, io ho già predisposto all'interno del portale di Azure l'App Service, quindi il servizio che mi ospiterà la mia applicazione, e ho già configurato qui nel deployment slot, ho già configurato il mio, diciamo, slot Blue Green a seconda di come la vediamo. Arriverà. Eccolo qui, l'ho chiamato pre-prod. Mi chiedo, pre-prod, così dove andrò prima qui a pubblicare il mio contenuto e poi andrò a fare lo swap come prevede la strategia Blue Green. Allora, torno su Azure DevOps, creo la mia pipeline, aggancio il mio sorgente che ho su GitHub, che ho già preparato, utilizzato anche per tutorial precedenti che metto in descrizione, Blue Green tutorial, soprattutto l'avevo fatto per GitHub Action, adesso lo vediamo per pipeline. Faccio existing Azure Pipeline YAML file che ho già scritto ma andiamo a commentare insieme. su master e il path è questo, l'ho messo in radice Azure Pipeline Build and Release. Faccio continue e andiamo a vedere insieme il file. Quindi ho messo un trigger none, non voglio che ci siano trigger che facciano scattare in automatico questa pipeline, al momento, allo scopo di questo tutorial, voglio che sia a mano. Ma potrei farla partire da master, per esempio, ogni commit su master, scrivendo per esempio così, ma al momento non mi interessa. Viene eseguita da un agent Microsoft Hosted, quindi offerto da Microsoft, in gusto Ubuntu, con installato quindi il sistema operativo Ubuntu 22 e tutta una serie di strumenti a bordo che ci permettono di compilare, pubblicare e così via. Quindi ho strutturato la mia pipeline in due fasi. Il primo stage è lo stage di build, dove vado a lanciare il comando qui, quindi stage build, il mio job è uno solo, il mio job è un raggruppamento di step, e gli step sono effettivamente l'automazione che io vado a programmare. Quindi il mio primo step è uno script, dove vado a lanciare tranquillamente il mio .NET Publish, che ha il comando per impacchettare, allo scopo di essere pubblicata, una web app che è di .NET, AspNet, e quindi questo è il mio progetto, utilizzo .NET Publish in formato release, e specifico che il mio output è questa cartella, build artifact staging directory, con questa sintassi vado a riutilizzare le variabili predefinite, le variabili, delle pipeline, in particolare build.artifact staging directory, è una variabile predefinita, c'è tutta una documentazione al riguardo, che punta a una cartella nota dell'agent che fa girare questa pipeline, dove di solito la si usa per convenzione per mettere i binari o gli artefatti che poi devono essere pubblicati e resi disponibili in fase successive. Infatti che cosa faccio? La fase successiva è un task Publish Pipeline Artifact, che prende come input il mio percorso da pubblicare, che è appunto quello utilizzato qui, e gli dà un nome, si chiama, a questo artefatto lo chiamo Website, e lo rendo disponibile come allegato a questa pipeline. Ricordo che posso, se conosco bene la sintassi YAML, posso, delle pipeline, utilizzare l'intellisense e procedere a compilare, oppure posso cliccare qui su Settings, e mi compare qui sulla destra un aiuto grafico con i parametri da compilare, poi faccio Add e mi viene compilato lo YAML Settings, e poi via. Un bene, quindi a questo punto io in questa fase ho compilato e pubblicato l'artefatto della mia applicazione. Nella fase successiva vado a farne il deployment, e utilizzo un deployment job per due motivi. Il primo sono quelli specifici per le fasi di deployment, che mettono a disposizione che cosa? Beh, il download automatico degli artefatti precedentemente pubblicati, quindi in automatico, senza che io lo debba scrivere, gli step, questo job, inserirà in automatico uno step per scaricare l'artefatto che io ho pubblicato qui, senza dover scrivere YAML aggiuntivo. E poi, perché posso dire in quali ambienti voglio lavorare, e qui si potrebbe aprire tutto un argomento per un altro video, dove indico che sto lavorando in quello che è il mio ambiente, che considero production. E intorno a questa dicitura environment posso metterci tante cose, controlli di accesso, controlli di orario, approvazioni manuali, veramente argomento per un altro video. E infine, perché ho la possibilità di scegliere una strategia, e quello che io scelgo è Run Once. Con strategia si intende una modalità con cui eseguire i task di deployment, che vengono particolarmente utili in scenari un po' complessi, come cluster Kubernetes o cluster di virtual machine. A me, in questo scenario relativamente semplice, mi interessa la strategia Run Once, cioè di esecuzione dei task una volta soltanto, senza particolari ripetizioni o parametri. In questa strategia Run Once è prevista la fase deploy, quindi effettivamente dove io vado a inserire quelli che sono gli step che io considero fare parte della mia azione di deployment vera e propria. E quindi cosa ho fatto? Ho utilizzato il task Azure App Service Deploy, questo è il codice, l'ho cercato qui, App Service Deploy, visto che io sto facendo l'installazione e il deployment all'interno di un App Service di Azure. E gli ho dato tutti i parametri, la mia subscription, il tipo di web app, dove trovarlo, e ho compilato tutti i parametri. Quindi questo task installa il mio artefatto, l'applicazione, nell'App Service di Azure. E in particolare sono stato attento a specificare il mio slot preproduzione, perché come abbiamo visto durante la spiegazione della strategia Blue Green, io vado prima a installare in un ambiente, diciamo, freddo, predispongo tutto quello che mi serve, e dopodiché giro il traffico per farlo arrivare qui. Ma appunto qui, in questa fase di deploy, vado a installare in preproduzione tutto quello che mi serve, in questo caso la mia applicazione. Infine, la mia strategia RunUance mette a disposizione una sessione dedicata a quelle che sono le operazioni di route traffic, quindi io il deployment l'ho già fatto, però adesso con route traffic si intende il girare il traffico, quindi tutte quelle operazioni che io vado a fare per instradare i miei utenti dalla parte giusta, quindi nella versione nuova dell'applicazione. E qui, configurazione abbastanza semplice, sono andato ad utilizzare il task App Service Manage, sempre cercandolo tra i task a mia disposizione, ho utilizzato l'App Service Manage, e questi sono i parametri che io ho messo, ho specificato la mia Azure Subscription, ho selezionato l'azione Swap Slot, perché qui sulla destra posso scegliere tante azioni che io posso fare per gestire il mio App Service, e gli ho detto che voglio partire dallo slot preproduzione e portarlo, scambiarlo con produzione, ok? Quindi questo è quanto, la mandiamo in esecuzione, faccio run, e vediamo che avviene tutto quanto. Lo commentiamo mano a mano che accade, vediamo la build, eccola qui, allora qui il build job scarica i sorgenti, come da manuale, checkout repository git, esegue la riga di comando .NET Publish che mi serve per impacchettare la mia applicazione, e poi faccio il Publish Pipeline Artifact, per pubblicare l'artefatto e renderò disponibile alle fasi successive, in particolare qui la fase di deployment. Poi c'è la fase deploy su Azure, che adesso dovrebbe partire, parte il deployment, scarica l'artefatto, come avevamo spiegato, e subito dopo inizia il deployment sull'app service, e qui attendiamo l'upload. Upload completato, app service configurato, adesso si finalizza la parte di deployment, e iniziamo la parte di root traffic, dove andiamo a fare lo scambio, quindi quella che è l'operazione, come se andassi qui all'interno del portale di Azure e facessi swap. Eccolo qui, il task parte, Azure App Service Manage, warming up slots, e fa lo swap del pre-prod con produzione. Siamo in dirittura d'arrivo, swap completato, e fine. e quindi possiamo concludere il nostro deployment, dichiarare concluso il nostro deployment con strategia blue green. Bene, oggi con le Azure Pipeline e le strategie di deployment, ci fermiamo qui, se questo video ti è piaciuto e hai imparato qualcosa, metti un mi piace e iscriviti al canale, così sarai notificato sull'arrivo di nuovi contenuti. Ciao e alla prossima! Ciao e alla prossima!